ma no no parla perchè è così? stavo solo pensando a come potete pagare oh, insomma di qualche idea ce l'abbiamo dimmi la potenza beh ma cosa dico? non è sono qui da un metodo di canale che ho fatto una domanda ti mostro un posto in me no, non è tutto in me oh il tuo appetito è insaziale hai sventato una parte di me che ti voglio vedere so che hai già fatto il tutto per me si, si chiede a chiamarti il figlio non so se ce la faccio a rione vuole diventare un grande figlio ma non posso pensare di prendere il figlio se è rione impara a combattere che proteggere te e la fattoria? non posso lavorare nella batteria sola non lo aspetto a questo si, mi è vero? non lo aspetto a questo ma non ci sono la stessa immaginazione non montarti la testa non mostrare come piantare i semi bruciare le erbace magari spingono un paio di gatti ma sembrerò più emozionale se sarei buon fatti per me non ci sono per me Non voglio le tue labbra Dobbiamo recuperare un sacco di denti per il sole E un sacco di pace Non le ragione Il tuo appetito è insanziabile Hai risvegliato una parte di musica So che hai già fatto molto per me Ma se potessi chiederti un altro favore Non so se ce la faccio Arione vuole diventare un grande guerriero Ma non posso pensare di prendere il mio Se Arione impara a combattere Può proteggere te la fattoria Non posso lavorare alla fattoria da sola Non ascolterò mai su un'altra Ti ammira Io lo leggo meglio Parlerò con lui Ma non credo che a te Non si sa mi da sembra Non montarti la testa Mostrali come piantare i semi Bruciare le erbacce Magari spenda un paio di galline Mi sembrerà più emozionante Se sarai tu a farlo E' l'ultima Dovrai toglierti un indumento Per ogni favore che ti fai Se non vado errada Su Puoi avere i miei sandali Ma se vuoi altri vestiti C'è qualcos'altro che può fare per me E va bene Cosa? Arione vuole diventare un grande guerriero Ma non posso pensare di perdere il mio Se Arione impara a combattere Può proteggere te e la fattoria Non posso lavorare alla fattoria da sola Non ascolterà mai Sua ragione Finita Io lo leggo meglio Parlerò con lui Ma non credo che abbia la tua stessa animazione Non montarti la testa Mostrali come piantare i semi Bruciare le erbacce Magari spenda un paio di galline Mi sembrerà più emozionante Se sarai tu a farlo Ok Ok Grazie a tutti